ok eccoci qua siamo live siamo qui con il nostro marco ciao andrea grazie mille per questa opportunità che mi dai che è una cosa veramente bella e mi fa piacere perché è molto bella io tu lo sai quanta stima ho di te te l'ho sempre detto non è che lo dico adesso e quindi ho sempre seguito le tue live perché le trovo molto interessanti perché al di là che sei un ragazzo giovane mai molto da insegnare a tutti quindi mi fa molto molto piacere essere grazie marco e comunque lo sai benissimo che la stima reciproca anche perché comunque in italia comunque di gente che fa betta belli come i tuoi non ce n'è tanta e quindi è un piacere è un piacere averti qui saluto tutti i ragazzi che ci sono collegati infatti se avete già domande partire a cura farne se no parto io che di domande ne avrei a quantità da quando vuoi al marco e niente dai lascio cinque minuti di aspettare qua un po la che la gente si colleghi e scrive se non iniziamo io ho scatenato un po di gente oggi no perché merita soprattutto anche per lo spirito con cui si fanno queste cose perché è bello chiacchierare tra persone per bene educate tra amici condividere la nostra passione il nostro hobby e quindi fa sempre che esatto è un confronto e soprattutto cerchiamo di aiutare chi si avvicina o chi comunque è incuriosito dall'allevamento di questi pesci comunque certo certamente certamente io guarda poi non ho segreti cose che diciano questa non la dico perché credo che condividere con gli altri le passioni sia più bello che è come avere la macchina bella e la usi solo tu no cioè per dire è bello condividerle le cose insegnare se possibile anche agli altri guarda ti faccio un esempio stamattina salto a prendere l'acqua d'osmosi in un centro fa vicino a me entro e c'era un nonno con un ragazzino di 10 12 anni avrà avuto più o meno il ragazzino mi dice ti posso chiedere perché prendi tutte queste taniche di acqua e allevo i pesci così gli ho raccontato e suo nonno madonna mia adesso questo fa non ti molla più non mi dice ho fatto duemila domande ma chiesto instagram che mi fa adesso ti seguo su instagram cioè per dirti però è bello perché mi ha fatto delle domande vi ho spiegato perché l'acqua d'osmosi quali pesci e poi i ragazzi giovani sono quello che saranno poi domani si spera ma sì poi il bello di questo hobby qua è che l'età non c'entra niente cioè se c'è qualcosa di comune è bellissimo proprio quello infatti infatti soprattutto emozionarsi no cioè indipendentemente dall'età ma guarda io io ho 59 anni quasi ad agosto ma a volte mi emoziono ancora come un bambino di 5 10 cioè io sono fatto così io sono un emozionale cioè io penso che senza senza emozioni veramente c'è non fai nulla nella vita no cioè come la la passione deve deve nascerti dal cuore cioè dopo viene tutto il resto cioè però senza cuore non vai non vai da nessuna parte o io saluto qui un po di gente vedo già tanta gente collegata sì c'è sabrina simone ricole milena la laura la chiara stefania vabbè dopo li salutiamo tutti esatto intanto io partirei subito con una domanda dimmi pure ci fa aids che è consigli per mantenere il kh adatto alla tipologia di beta che abbiamo cioè per mantenere il kh adatto ai beta parliamo sempre allora io dico cosa allora io dico chiaramente cosa uso io io uso sempre acqua ad osmosi ricostruita con i si può fare dalla pubblicità ok no chiedo perché sai coi sali amtra liquidi che sono separati gh e kh ok dove prima usavo anche gli altri sali nulla da togliere neanche agli altri e non è che stia dicendo che gli altri facciano schifo assolutamente no però trovo che questi sali siano molto belli e comodi per il fatto che essendo liquidi allora spiego praticamente come faccio io preparo tutti i giorni la tannica da 20 25 litri perché ho un po di roba da fare i cambi in base ai litraggi poi ci sono l'indicazione quanto kh quanto gh allora il kh e kh io sto da intorno 3 da 3 al 5 per i per i beta e gh dal 7 al 9 su quei valori lì insomma ecco non li dico mai precisi perché se poi se sgarano di un valore vanno in crisi ci sono le indicazioni e vai a ricostruire con i cioè ci sono gli ml che devi mettere in base i litri che devi andare a ricostruire e io ti dico come vedi i pesci stanno da dio stanno veramente bene e la cosa importante che hanno questi sali e io li uso prima di metterli nella tannica una mezza bottiglietta d'acqua li sbatti che si miscelano bene li metti in tannica metto l'arreatore con la porosa che l'acqua circola si miscela bene e vai tranquillo si è una cosa pratica veloce comoda e non mi ha mai dato nessun problema i pesci i miei li vedi stanno bene poi per chi immagino non allevi come te ma abbia pochi pesci a casa è ancora più facile per ma se ma se la limiti d'acqua ma se io io faccio cambi dei 30 litri al giorno quindi figurati uno uno che ha un pesce o due 30 litri ma vai avanti una vita anche a livello di costo non ti costano un'esagerazione assolutamente ma no assolutamente emanuele invece ti chiede come hai iniziato e con quali riproduttori oltre che ti chiede la provenienza dei tuoi primi riproduttori allora io allora parto dal presupposto che ho gli acquari da quando avevo 13 anni come ho detto a te prima in privato ne ho 59 e un po di anni poi ho avuto una pausa dove mi sono dedicato ai pur sangue arabi e poi ho ripreso ancora nel intorno al 2000 all'incirca intorno al 2000 ho ricominciato ad avvicinarmi ancora agli acquari però il beta è sempre stato il mio pesce preferito in assoluto io ho avuto scalari discus colisa un po di tutto però il beta è quella cosa sai l'amore a prima vista ma nel 2000 allora aspetta che ci penso è 23 2013 sarà stato più o meno allora parlo allevare perché tornando indietro negli anni avevo allevato i classici beta splendens eccetera però se parliamo di di cosa un po più professionale intorno al 2013 sono partito con i con gli alfmon a coda grossa no sì sì io sono partito con quelli perché con l'avvento di internet facebook se si cominciava a riuscire a vedere un po di qua di là su e giù allora vedevi per le prime volte sti pesci dicevi mamma mia cioè che robe non lo sai classico no classica frase e allora sono riuscito a contattare anzi ti dirò di più il la prima coppia l'ho presa da valentina di renzo a che l'ho presa da lei adesso che ci penso poi tramite sempre lei ho preso altre altre due coppie ho iniziato con la coppia di alfmon black orchid wow ok a bomba subito la bomba subito perché i black orchid sono poi miei preferiti anche nei placati che un giorno alle vero ancora poi avevo una coppia di red dragon è una coppia di dragon butterfly no e ho iniziato con queste riproduzioni però devo essere sincero e qualcuno qui che sa cosa penso oggi degli altri non comincerà a ridere quando allevavo sti pesci perché mi è sempre anche andata bene ho sempre riprodotto buoni esemplari diciamo non male anche se comunque anche sul fatto dell'allevamento sugli alfmon è un po più difficile più difficile che necessitano di un po più spazio attenzione di più io forse al tempo non ero ancora così centrato così afferrato su tante cose sai qualche errore lo fai però guardando crescere questi pesci questi alfmon mi rendevo conto e rispetto chi li ha è perché ti dico io li ho avuti quindi mi mi rendevo conto di quanto erano in difficoltà a nuotare sono un po più goffi cioè quando vedevo sti pesci che continuavano sembrava che facciano tutto loro erano sempre lì poverini e mi sono detto belli ma non sono quello che forse io sto cercando nella mia testa e però non sapevo cosa stavo cercando esattamente no non sapevo allora gira di qui gira di là un giorno capito su una levatrice donna che aveva questa coppia di placca no dei candy dei fancy praticamente no quindi madonna vedo sta coppia dico no la voglio a tutti i costi la voglio la voglio insomma trattativa no non la vendo no non la vendo e ma anche fatta pagare un ire di dio perché poi sai all'inizio non sai neanche io non sapevo come trattare poi preso dall'euforia l'ho presa e ho iniziato da lì come rispondendo alla domanda no provenienza europea non credo perché credo che anche la valentina siano stati tutti di importazione anche lei credo che importi quelli che ho preso da lei ho iniziato con questa coppia di placca ho fatto una bella riproduzione a livello numerico e anche qualitativamente perché io ancora oggi ho tutti i video che ho fatto negli anni a dietro ogni tanto me li vado a rivedere ma li vado a rivedere per capire se quello che avevamo prima era tanto lontano da quello che voglio adesso o comunque già qualcosa di buono c'era anche allora perché serve questo raffrutto però interessante mi rendo conto che già allora c'era qualcosa di buono nelle nidiate che facevo perché la qualità dei placca che avevo preso era già era già molto buona sinceramente però sai più passa il tempo e più ti rendi conto e poi da lì ho iniziato vabbè ho iniziato un po a far riprodurre i figli io però sono sempre molto aperto al fatto di se trovo la coppia bella che ne vale la pena oggi non ho problemi a importarla ad esempio adesso come avrai visto ho tre riproduzioni fuori dei mini pond che sono tutte figli dei miei nati da me e potuto e sì sì sono un f2 tutte queste tre nidiate che ho praticamente avevo preso questo maschio e femmina importati ho fatto riprodurre e i figli ho fatto accoppiare fratelli e sorelle ok e queste tre nidiate che ho fuori sono tutti f2 e stanno veramente crescendo bene non non tornerei più indietro cambiando per i placca dico assolutamente ma io vedo un po una quasi una similitudine comunque tra il puro sangue arabo in cui comunque tu hai fatto grandi piazzamenti diciamolo e i placca comunque hanno le stesse linee un po più più pulite più pulite armoniose caratterialmente sono dei diavoli sono sempre incazzati io vado molto a selezionare anche sul carattere perché a volte quando è capitato no vedi dei dei pesci dei placca da anche che magari nati da me che dormicchiano un po cioè nel senso che tu gli metti lo specchio dicono e quindi niente allora no ok non farai mai parte del progetto che voglio perché io voglio che il placca di faccio un esempio poi vabbè entreremo nel discorso però un placca un bet in generale deve essere sempre pronto cioè alla parata deve essere sempre attivo cattivo deve essere questa è una cosa fondamentale e esatto hai fatto un paragone vero poi puro sangue arari animali forti nevrili dalle linee perfette si tutto muscolo comunque no e quando li vedi nuotare placca ti danno energia ti danno che se io anche quando faccio i miei video a volte io mi emoziono da solo metto giù il telefono e sto lì me lo guardo da solo perché quello che vedi mentre filmi non è la stessa cosa che vedi mentre lo guardi coi tuoi occhi una cosa diversa noti di più i dettagli la particolarità e io vado pazzo per queste cose poi ah sì 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 no ti capisco appieno ti dico a gusto mio anche io sono più per i placca anche in realtà per una semplicità di allevamento cioè sono un po più semplici quindi stavo leggendo la paola che mi dice lascia stare gli arabi perché lei i quarteros che non sono cavalli siamo solo a provo io ti recupero un commento di edward che ti vabbè innanzitutto saluto tutti i ragazzi che saluto tutti quelli che tutti quanti è ovviamente e saluto chiara matteo paola arcangelo glaucia stefania salutiamo tutti e ti recupero questa domanda che ci fa edward che dice che pareri hai dei betta in acqua dura alcalina semplicemente che si potrebbe evitare penso come te almeno semplicemente selezionati e meglio sì allora parliamo chiaramente sempre di betta selezionati per carità ma anche se non lo fossero allora partiamo a presupposto se uno ha un pesce partiamo uno al suo al suo cubo dai 30 litri eccetera hai un pesce cosa ti costa prendere osmosi e ricostruirla niente poi per carità allora io resto dell'idea l'ho sempre detto a tutti chi mi conosce ripudio l'acqua di rete come se fosse il demonio perché ha troppe allora soprattutto se vuoi allevare i selezionati ha troppi inconvenienti poi se uno mi dice però marco sai cosa c'è io ho 800 litri di cambi d'acqua alla settimana dico vabbè allora magari puoi fare un po e un po perché chiaramente magari ti costa quello che ti costa ci sta parliamo sempre di acqua decantata però è come dire rispondendo alla domanda che parere ai dei betta se li nutro solo con la verdura quando invece sono carnivori insettivori perché lo fai evita cioè oppure quando mi chiedono ma se incrocio un double tail con un crown tail perché cioè diciamo che puoi farlo puoi farlo ecco puoi farlo però però non ha molto senso cioè oppure lo puoi fare se sei un allevatore dove fai magari 10.000 pesci all'anno allora magari vuoi puoi trovare dei numeri così alti di una certa selezione e vuoi provare a cambiare una colorazione una forma ma se fai un anidiata di 40 50 pesci dove va non sprecarla con non sprecarla perché come dico sempre vai 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 no no tranquillo era solo perché stefania invece ti chiede riguardo all'acqua che fai tu quanto tempo la puoi conservare ok allora calcola che io ce l'ho in una lavanderia quindi al buio e al fresco questa è una cosa soprattutto in questo periodo che fa caldo no è fondamentale guarda io la allora parlo personalmente quella che io uso ripeto sono andato stamattina a prendermi 150 litri e i 150 litri che mi vanno abbastanza in fretta calcola che to faccio un 30 litri una settimana dai esagero io in una settimana la faccio fuori 150 litri e sì cavoli è perché ho i due mini pond adesso fuori che sono 80 litri e una volta a settimana faccio il cambio totale e quindi sono già 80 80 sono già 160 lì magari fai un po e un po però poi ho i maschi che faccio la sifonatura tutti i giorni cambi tutti i giorni e l'acqua va però credo aiutami anche tu andrea che penso che se in un luogo adatto non sotto i raggi del sole al caldo e alla luce tutto quanto penso che una ventina di giorni la puoi tenere no anche secondo me la mente comunque anche un mese secondo me esatto parti da osmosi ricostruita dovrebbe essere non dico purissima però diamoci bene il dubbio sì 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 però l'importante è chiaro che non la lasci sotto al sole o robe del genere perché ovviamente nella tanica magari si può un po deteriorare però vincenzo ti chiede invece se hai mai pensato di levare beta macrostoma yes ci ho pensato sì ma infatti l'avevo detto anche forse a te andrea una volta nel parlare non so se ti ricordi mi ricordo mi ecco è uno dei beta wild che un domani mi piacerebbe provare ma non so dirti per quale motivo sai quella cosa che ti colpisce di più di un altro è però è bello è bello è un domani se come ti avevo detto tra poco dovrei avere una fission tra virgolette per carità dovrei avere la casa libera di là che dove mi sfrattano mi mandano di là a vivere e avrò un po più spazio e tempo vorrei provare su qualcosa anche tipo il macrostoma sicuramente beh ragioniamoci perché macrostoma è sempre bellissimo da tantissime soddisfazioni è un è un animale un po impegnativo perché costicchiano costicchiano esempio no ti faccio un esempio per dirti cosa ho speso io poi quando compro le copie una copia di macrostoma cosa potrebbe costare indicativamente è del 250 ai 300 sì 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 so che costano quei soldi però mai come una femmina che settimana scorsa mi hanno chiesto 240 euro una femmina di placca è unica ha vinto tre campionati ma se ma senza senza spedizione perché poi arrivavi a 300 no ti dico i macrostoma si trovano anche a meno se proprio in un gruppo di giovani e te li cresci tu allora non dei corsi diversi è chiaro chiaro certo però se vuoi la coppia già formata sì più o meno quelle sono le cifre che ci sta però ma no ma ci sta io ci sta poi guarda io sono uno che se mi fisso su una cosa e dico bom voglio provare a levarla se la cosa è di qualità non mi faccio molti non problemi perché non è che io fui a ricco e quindi possa divano bene assolutamente no però se una cosa mi convince mi convince il progetto mi piace il pesce sono disposto anche se ne vale la pena spenderli ecco questo sì questo sì allora prima di recuperare altre domande alla chat volevo aprire contro un argomento super interessante che poi farà partire penso molte domande quanti siamo tu che vedi veri quanti siamo 27 persone collegate adesso è bello bello dai sì sì siamo parecchi e prima appunto stavamo appunto parlando di questo discorso dei prezzi dei pesci e ti volevo chiedere a te e qui è un argomento spinoso che mi piace affrontare con te ma no vai quanto può costare un pesce cioè qual è il prezzo giusto di un pesce perché ti ricordi che ancora tempo fa nacque la diatriba e io so che io e te più o meno la pensiamo in modo molto simile quindi io ti dico cosa penso io poi ripeto ognuno io ho sempre espresso dei concetti molto chiari e capibili credo io credo che il prezzo parlo per me dei miei pesci lo decido io ti spiego se io faccio una nidiata e ho 100 pesci tu sai chiaramente Andrea che in una nidiata ci sarà il pesce vado in voto scolastico da 6 quello da 7 quello da 8 quello da 9 e quello da 10 se vuoi il pesce da 6 magari ti dico posta 15 euro 20 euro che ne so più sali la qualità e più chiaro cioè non può costare io credo che non ci debba essere un prezzo fisso per qualsiasi tipo di qualità di pesce e questo io l'ho riscontrato tornando al discorso di prima anche nel mondo dei puro sangue arabi se tu vai a prendere un cavallo che non ha vinto niente te lo regalano se vai a vai a prendere uno che ha vinto due mondiali due europei cosa ti chiedono quindi poi ripeto a nessuno viene puntata la pistola per venire a prendere i pesci da me chiaramente uno può dire ma guarda marco i tuoi pesci mi piacciono però magari costano troppo oppure non sono la mia portata fa benissimo c'è capibile chiaro poi ci sono lo so era nata appunto a questa cosa qui non so il tuo pensiero qual è ad esempio allora io ti dico basandomi io distingo due cose distingo l'allevamento amatoriale italiano o comunque europeo e i pesci di importazione nell'allevamento italiano la penso come te ma quasi peggio cioè nel senso secondo me dovrebbe costare ancora di più per due motivi i pesci non devono viaggiare e non devono farsi chilometri che è un rischio enorme secondo dietro c'è tanto lavoro e cura da parte di persone che stanno facendo tutto questo con un clima non favorevole cioè tu non hai la temperatura costante buona assolutamente non hai il cibo vivo che esce fuori nel fossile o peschi lo usi assolutamente no ok e quindi è un impegno totalmente diverso se noi vogliamo un animale comunque più certificato passamentale perché comunque sai sicuramente che cosa ha avuto quell'animale la sua storia eccetera puoi avere il suo pedigree al cento per cento vero certo perché tipo guarda questa cosa ha un prezzo esatto perché io ti posso dire anche chi sono i nonni dei miei pesci i nonni i genitori puoi vedere tutta l'anidiata il ficcio è importante questo perché quando vai a prendere un pesce fuori non sai neanche chi è il padre e la madre ma no ok una foto che ti manda ma figura e fatti bravo questi qua gli dici ma il pati manda una cazzo la cazzo via cioè che capito magari metti anche la persona onesta e non dico di no 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 ma ci sono io ad esempio ho contatti con persone serissime come ci sono state persone con cui ho acquistato il pesce non ho più visto né soldi né pesce quindi per dirti no ecco che devi devi mettere in conto anche quello è se io ci metto la faccia come ce la metti tu andrea con ti dico con gli animali che invece sono di importazione lì c'è da distinguere beh in realtà questa cosa è anche un po' con gli allevamenti d'allevamento tu che cosa stai comprando cioè stai comprando un animale che è di serie a cioè nel senso ha determinate caratteristiche a livello di selezione quindi selezione di standa e salute e salute vuoi quello perché hai un obiettivo in mente dici io voglio quello come riproduttore oppure sei solo comprando un pesce che ti piace perché se è solo un pesce che ti piace lì purtroppo il prezzo non è troppo alto per te sei tu che non sai cosa stai comprando e giudichi solo dalla stessa estetica poi ripeto è massimo rispetto perché guarda io ho regalato anche dei pesci a dei ragazzini che venivano o mi scrivevano mi dicevano guarda marco merito i pc i pesci piacciono però cavolo mia mamma non mi dà i soldi per spendere guarda lì c'è ma vieni qui ne prendi ma certo non ti do magari quello figo e di qui ti do un bel maschietto vai a casa cosa ma che me frega cioè lo sai anche tu io cioè non diventi ricco coi pesci una volta che io mi pago le spese tutto quanto va benissimo però non è che io ti obbligo acquistare i miei pesci cioè non è che ti minaccio di morte e vai in negozio li paghi guarda io dove sono andato a prendere l'acqua d'osmosi oggi c'è anche il reparto acquariologia no e hanno anche dei beta che sono i classici beta commerciali da negozio sono venduti a 35 40 euro eh sì guarda ti dico io vai a prendere esatto ehm nel senso ehm se vuoi comunque un esemplare carino anche da negozio il prezzo minimo è dei 25 25 25 sotto sai che stai comprando proprio mi dispiace dirlo perché sono esseri viventi dello scatto dello scatto dello scatto e soprattutto dove è stato quel pesce chi l'ha levato da dove viene guarda leggo una domanda a proposito di Mara che saluto pensiero mio la qualità la paghi io ho un beta di Marco Nico che ha quattro anni ripeto quattro anni ok perché quando vendi devi vendere anche la qualità e la salute del pesce poi per carità cioè sono animali possono morire cioè io sono sempre stato onesto dico guarda se c'è qualcosa sono qui non scappo ci metto la faccia vieni qui senza problemi ci mancherebbe altro però ragazzi cioè e calcola una cosa Andrea che per io arrivare a crescere un pesce minimo minimo mi servono 4 5 mesi da quando nasce non è che lo vendo dopo 15 giorni io devo soprattutto diciamo che facendo queste cose non si diventa ricchi cioè non è che uno vede un pesce venduto a 50 euro 70 100 ma ricco di cosa ma io ti faccio la lista di cosa spendo di roba tra mangime acqua riscaldatori corrente lascia stare va lascia stare certo certo per dire ma va bene non va benissimo voglio dire recupero un po di domande e allora glaucia spero si pronunci così e chiede che verdura si può dare e quanto allora qui con me io con la verdura sono molto contrario sono sincero io sono conto c'è mispiard glaucia è una persona amica che conosco quindi va benissimo però ti dico che verdura puoi dare quanto nessuna mai così gli rispondo e siamo posti mentre paura ti chiede se hai l'impianto d'osmosi a casa o perché non ce l'hai allora io ho preso i quattro stadi dell'acquiri che ho ancora qui in casa però ti dico non avendo applicato dove l'avevo installato la pompa boster ci mette la vita e ci mette una vita e avevo un sacco di scarto e per una coscienza mia mi giravano scusate le palle vedere per fare 30 litri scattarne 200 e dicevo ma che senso ha che senso ha vado a prenderla tanto qui da me la vendono a 10 centesimi non è un prezzo è un buon prezzo e dovrei quando ecco dovrei fare l'impianto con la pompa boster ok allora poi mentre allora vale la pena io comunque avevo preso i quattro stadi aquili che comunque andava bene ma c'era troppo scarto troppo troppo cioè mi sentivo posso dire mi sentivo mi facevo schifo se pensavo che ci sono bambini che fanno 30 chilometri per prendersi una tanica di acqua e fango e io ne sprecavo 300 per far 30 litri per i pesci ma lascia stare vado a prendermela 10 minuti e la posto dopo in realtà appunto come dicevi tu con alcune soluzioni si riesce ad ottimizzare allora un senso no cioè se la ottimizzi e probabilmente lo farò un domani va benissimo va benissimo sì sì no va benissimo avevo pensato anche a fare proprio l'impianto in casa proprio l'impianto anche che puoi berla puoi fare tutto l'impianto però anche lì vai sui 2.000 e 2.500 euro è vero poi lo stato dice tenere in bolso 500 ho capito ma sono sempre 2.000 insomma e poi comunque mantenere di qualità vuol dire cambiare le membrane ma potete cambiare le membrane bravissima comunque non è che non è che dici basta è finita lì e vai avanti in eterno allora marco ti chiede le dici esemplari che porterai all'holand betta show quindi con questo ovviamente ti auguriamo buonissima fortuna per il tuo concorso il corso ne è qualcuno più favorito secondo te o partono tutti dallo stesso livello no dai sono sincero tutti allo stesso livello allora devo dire la verità porto sia maschi che femmine la qualità ripeto poi quando ti confronterai la perché siano tutti i campioni a casa nostra però quando scende in campo poi rischi di prenderle ma va bene uguale perché come dicevo per me sarà una gran bella esperienza e va bene così va bene così allora io credo ce ne sia uno in particolare che a me ruba il cuore che anche il padre di una delle niviate che ho anche pubblicato che se andate a vederlo magari lo pubblicherò lo farò vedere che secondo me molto 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 vicino a quello che io cerco veramente proprio temperamento maestosità forme colori dimensioni top line perfetta e mi sono confrontato con questo pesce anche con persone che sono giudici e loro mi hanno detto se non vai con allora perché è nata tutta così io volevo andare in olanda ma da spettatore ho detto dai vado su qualche giorno e va così un'esperienza faccio una mini vacanzina vado in olanda che è una delle nazioni mie preferite e quindi vado poi è una di queste persone che non so se è collegato che è roberto silveri e che ringrazio lui sa tutto perché ci siamo sentiti per alcune volte ringrazio veramente tanto perché è stato lui a far scoccare veramente la scintilla per dire ok vado e lui sa perché e mi ha detto se tu vai in olanda senza pesci vengo e ti prendo a calci nel culo mi dice testuali parole mi fa non t'azzardare andare senza questi pesci qui ma ti rendi conto allora ho detto porca miseria perché sai cosa hai allora io sono consapevole della bene o male della qualità che ho però poi diceva beh però vai la cavolo chissà cosa c'è no però alla fine di ma che cosa ho da perdere poi alla fine dici se non ti confronti mai e come fai a capire se devi ancora crea allora crescere quello sempre perché devi sempre crescere non sei mai finito di imparare però arrivi a un certo punto che dopo un tot anni devi anche dire adesso mi confronto vado vado uno show serio più grossa di te più grossa di me sicuramente più grossa più brava di me con più esperienza di me quindi dico arrivo ultimo bene so da dove ripartire se allora è lo spirito giusto è lo spirito giusto io ho fatto così poi non ti nego che sogno di fare bene ma come tutti credo è normale quando una squadra comunque stare umili per non gufarla no ma no ma neanche tanto per non gufarla è proprio perché mi rendo conto della qualità che troverò cioè non è che vado alla fiera di santa santa alessandro che ci sono quattro pesciolini dice vabbè ok c'è lì ci sono 30 paesi europei con allevatori da tutta europa quindi capisci che la qualità è alta però bisogna anche avere perché sai se chiacchieri 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 e non fai e non dimostri mai niente perché sai che c'è gente che ha fatto tutto io alla fine non capisci mai cosa ha fatto e dici cos'è che ha fatto perché alla fine non vedi mai niente quindi confrontiamoci vada come vada poi è una bellissima esperienza una bellissima esperienza si scambiano esperienze idee modi di allevamento magari pesci nuovi che possano essere interessanti per il proprio progetto infatti ho già in mente che se trovo qualcosa parto con 10 torno con 12 sì sì no no ma te l'ho detto anche prima io sono molto aperto sempre a imparare a capire a non fare a non fossilizzati sulle proprie idee perché è uno sbaglio grandissimo secondo me no ma poi in questa cosa qua la cosa che a me piace è che parlare di pesci deve essere una scusa per conoscere persone scambiarsi certo certo poi il resto marco c'è posso dirti chi se ne stra ma chi se ne frega tanto guarda la mia passione non passerà neanche se arrivo dopo l'ultimo la penso come la mia passione trovarsi ridere scherzare e avere la scusa di conoscere belle persone poi ma chi se ne frega damiano chiedere invece più o meno in quanto tempo porti all'età riproduttiva di becta placca allora partendo dal presupposto perché per l'esperienza che ho negli ultimi 15 anni una roba così i placca a volte anche a tre mesi già potrebbero riprodursi ok io però personalmente tendo sempre a farli arrivare almeno sui sette otto mesi perché non solo perché non si possano riprodurre perché io a me è capitato quando vivevano in comunità tre mesi li vedevo che si accoppiavano tranquillamente senza problemi sono molto precoci come pesci se sono cresciuti bene no però sette otto nove sette otto mesi perché dicevo primo perché mi è capitato di dire a tre mesi wow che bello questo a questo lo tengo da parte a sei mesi era completamente un altro pesce come colore come forma e quindi tu dici ma se io avessi fatto riprodurre a tre quattro mesi questo pesce perché magari era blu esempio ea sei mesi è diventato giallo cioè cos'è che ho fatto a copiare io giallo a sette otto mesi è già comunque una crescita corporea più definita una sviluppo del colore abbastanza definito dico abbastanza perché si definisce intorno all'anno di solito finito quindi hai una certezza in più e poi lo vedi anche quanto cresce perché ad esempio negli show devi avere anche una tot misura per poter partecipare devi essere superiore i tre centimetri e mezzo e a parità di punteggio vince quel vince più grosso esatto viene favorito quello con la mole più grossa quindi anche lì devi vedere lo sviluppo corporeo che ha quindi io dammi ti consiglio almeno sette otto mesi almeno poi so che c'è gente l'ha fatto a tre quattro mesi va bellissimo cioè però se vuoi fare un lavoro fatto serio secondo me è meglio così alessandro invece ti chiede a ogni quanto è preferibile can fare il cambio parziale d'acqua cambio parziale dell'acqua dipende da quanti pesci ai da quanto litraggio ai perché se hai 100 pesci in 30 litri tutti i giorni anche due volte al giorno esempio avere una battuta dipende io ad esempio come ho detto sifono tutti i giorni e faccio aggiunta di acqua tutti i giorni ai maschi separati però facendo esempio un 30 litri facciamo un esempio con un maschietto e magari tre quattro rasbore o quello che sia per dire no è un cambio parziale io lo farei settimanalmente almeno del 25 30 per cento la penso con la mente poi distinguiamo ovviamente la differenza tra chi ha l'acquarietto per piacere e chi alleva chi alleva obiettivi diversi diversi chiaramente qualità dell'acqua impeccabile sempre per due motivi i pesci crescono più velocemente come ben sappiamo e la seconda cosa ovviamente che uno non può rischiare di buttare anni di lavoro perché non ha fatto un cambio ma soprattutto i cambi per chi alleva parliamo sempre i cambi quotidiani per ripeto io li faccio quotidiani sono una cosa fondamentale per far crescere un pinnaggio fantastico perché poi certo serve la qualità del genetica del pesce ovviamente però tu preservi le pine soprattutto anche per chi alleva alfmon a coda grossa presione a molti batteriosi o con batteriosi e funghi tutte ste robe così corrosioni eccetera eccetera certo certo e bobo invece chiede in un 40 litri netti è corretto cambiare il 20 per cento ogni 15 giorni beh io me la domanda esatto io farei io farei settimanalmente che è meglio secondo me poi dipende sempre ripeto quanti pesci abbiamo e come gli diamo da mangiare perché c'è chi usa le ruspe a dar da mangiare perché capita c'è gente che busta le ecco una cosa approfitto anche sull'alimentazione preferibile magari dare tre volte al giorno poco che mangino subito che una volta al giorno una quinta lata di cibo che poi non lo mangiano e inquina questo è fondamentale sì 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 e poi sono sempre dell'idea che è meglio poca brigata com'è che si dice vita beata nel senso gli acquari troppo affollati troppo comunque il beta con animale anche unite in comunità dico esatto è giusto lasciarlo ma per me dal meglio di sei la termine acquario da solo per quanto mi riguarda io io consiglio sempre da solo sempre ho sempre detto lo dirò sempre anche perché ha un'interazione con con il proprietario che è veramente stupenda e riesce a godertela pieno poi chiaro se uno non riesce a scegliere vuole qualche altra specie di compagnia chiaro chiaro che poi c'è chi mi dice però da solo poi iniziano le patone mi dispiace si sente triste che poi non so chi gli abbia mai detto che si sente triste però i pesci anche il beta quando mi parlano di acquari grande allora 30 litri ok va bene però quando cominciano a parlare 80 90 litri 100 litri io li sconsiglio per il semplice fatto o fai una sorority di sole femmine ok allora dici metto 10 femmine esempio quello che è va bene ma se parliamo sempre del beta maschio il beta maschio ragazzi un pesce territoriale molto territoriale e quindi sarà dannatamente all'opera tutto il giorno per tenere sotto controllo i 100 litri ma 100 litri per lui è come avere una casa da 500 metri per noi da pulire cioè diventi matto diventi matto quindi state sui 30 litri che va benissimo va benissimo sì e appunto la penso al 100% come te 100% perché dobbiamo sempre pensare di fare il bene suo non nostro esatto e spesso si sente da dire che per molti pesci più acqua c'è meglio è però ricordiamoci che è una regola che non vale per tutti assolutamente no non per tutti quantomeno esatto vai tranquillo e vincenzo dice come fa a stabilire la valutazione del pesce e abbiamo già detto quali sono i nostri criteri dopo sappiate che in realtà online ci sono altri modi per stabilire i prezzi cioè io sono asiatico vedo un compratore europeo cerco di rubare gli soldi ma questo succede qualsiasi campo della vita non solo nei pesci no però mi rendo conto che nei betta succede spesso perché noi diciamo ah costa solo 50 dollari poi in realtà non sappiamo che abbiamo tutte le spese accessorie per portarlo in Italia in modo legale spedizioni eccetera eccetera esatto e magari non sappiamo che quel pesce lì comunque un pesce che quei soldi comunque diciamo che non li vale ecco bisogna allora non tutti i venditori sono uguali anche lì no no e poi un consiglio che io gli do trattate fino alla morte con gli asiatici sì perché loro magari te la sparano 50 poi no però 30 poi non ti sentono più vabbè dai anche 20 però rispondendo a vincenzo come fai a stabilire la valutazione del pesce vincenzo che è un carissimo amico c'è uno standard quindi più il betta sarà vicino alla perfezione dello standard e più valore commerciale monetario avrà quello sicuramente come tutto come un cane allora ti faccio un esempio perché se vai a prendere un cucciolo di bassotto di levriero di pastore tedesco che ha vinto dei qua ti costa 2000 euro e se vai da ti costa 200 euro perché perché hanno selezionato hanno portato lo standard a livello alto al molto vicino proprio allo standard e quindi la qualità la paghi perché non è facile arrivare ad avvicinarsi alla qualità perché quando c'è azzecchi con la caudale non va bene la dorsale quando va bene la dorsale e la caudale non vanno bene le ventrali cioè non è facile e poi anche il colore trovare certe colorazioni non è facile io ricordo è arrivata la guenda salutiamo la guenda salutiamo la guenda ciao guenda anche la marica ciao marica ciao a tutti ciao a tutti sono tanti veramente dai che bello ciao benvenuti ragazzi io ricordo appunto in uno dei miei viaggi che ho fatto in Thailandia che c'era ho visto questo betta che era un full mask quindi era tutto nero con solo la maschera bianca maschera bianca e il prezzo era 500 dollari cioè sotto quello non scende perché perché ce n'è uno ce n'è uno e tu sai che tra l'altro da quell'esemplare lì non otterrai dei figli uguali magari uno se ti va di culo hai capito se ti va di culo ma se ti va bene però è così però è difficile farlo capire alla gente perché uno dice eh vabbè ma tu fai due nidiate c'hai che ne so 200 pesci sì ma io sui 200 pesci non nascono 200 campioni eh no sarebbe troppo bello quindi devi andare a selezionare devi andare e poi è proprio un obiettivo che mi sono posto adesso e negli ultimi periodi negli ultimi anni o due c'è proprio da selezionare tanto cioè devi avere allora io oggi ancora oggi vedo pesci che ho venduto e dico mannaggia da Cristo che cosa l'ho venduto a fare però devi avere il coraggio di fare una scelta e prenderti una tua linea perché se tu stai lì a aspettare tutti i 200 pesci dici bon adesso aspetto un anno 200 pesci cosa succede? eh ho capito ma chiudi baracca e baracchino però ne fa sempre perché se no quindi dici ok io adesso mi sono eh impuntato di allevare i copper magari fra due anni cambio fra tre anni non lo so quello che è ho puntato su quelle colorazioni lì voglio andare avanti su quelle colorazioni lì mi sono selezionato maschi e femmine certo poi vedo dalle nidiate dei multicolor tra cui uno di Simone di Laura eccetera che saluto eh e li vedi dici porca miseria cazzarola che bello madonna allora a Laura ho venduto un pesce che di forme era molto bello già quando glielo ho dato ed era completamente blu io i blu li tedio proprio via cioè non li sopporto più cioè nel senso che le nidiate tu lo sai Andrea la maggioranza dei marble dei multicolor sono quasi tutti blu o blu o cellophane no? eh mamma mia cellophane proprio era un fan zero ancora peggio che andare di notte no? ok e quindi dico boh dai ho detto vabbè bello però lo do via adesso è con il corpo nero col galaxy blu turchese con la coda rosso fuoco col butterfly nero con la pinna anale nera e la dorsale blu metallica si strafigo che tu dici che ne sai cosa diventa cioè così è così chiaro allora Alex concordava col nostro discorso fatto prima ovviamente dei pesci ovviamente che salutiamo Alex certo e anche Paola dice giustamente la qualità si paga e su questo siamo esatto se voglio la Ferrari non me la danno a mille euro esatto esatto ecco infatti sui pesci questa è una cosa importante da far capire cioè dobbiamo far capire che non solo tutti i pesci non sono uguali e fin qua ci siamo ma non tutti i beta selezionati sono uguali cioè bisogna sapere come dicevamo prima cosa si sta comprando e perché lo stiamo comprando esatto esatto poi guarda posso fare una notazione e la dico con orgoglio questa piccola i pesci che io ho venduto negli anni si sono sempre riprodotti tutti o quasi tutti 99% che sui pesci importati non è facile perché a volte prendi pesci che sono sterili non si riproducono non ne vogliono sapere eccetera eccetera è una cosa molto importante e soprattutto ai pesci sani cioè è una cosa che fa questo lo dico per qualsiasi persona che allevi comunque in Italia perché ci sono altre bravissime persone che lo fanno però è una cosa fondamentale da tenere presente da tenere presente la scuola e una cosa per quanto mi riguarda che non apprezzo è la possibilità di comunicare con l'allevatore certo avere un scambio è importantissimo se c'è qualcosa sono qui non scappo sono qui vieni se c'è qualcosa poi guarda questo te lo posso garantire io tutti i giorni dicevo centinaia di messaggi che acqua usi devo fare la riproduzione che basta usi cioè io li aiuto li consiglio se non è che dico eh ho venduto il pesce ciao cioè devi dare anche un supporto poi alle persone che vengono da te perché è normale che hanno bisogno di essere consigliati aiutati seguiti perché è chiaro eh sono nati i Bettini adesso cosa faccio allora spiega tutto però è bella questa cosa perché tu io vedo anche dei ragazzi giovani che stanno crescendo anche bene che stanno facendo qualche riproduzione a me fa piacere perché magari un domani queste persone saranno dei buoni allevatori e a posto di andare in Thailandia magari prenderò i pesci da loro hai capito? che è un obiettivo che anche io mi auspico sempre invece noi siamo un po' un paese che dice osti se magari Marco Nico muore magari vendo due pesci più io no cioè ma è così cioè lo so cioè se io trovo qualcuno ma io ho chiesto dei pesci anche allevatori in Italia senza problemi poi non me li andati però se trovo la qualità qui non vado a prenderli a casa di Dio con tutti i rischi che ci sono tra l'altro con tutti i rischi che ci sono ok capito per quello che dovremmo pensare a essere più aiutarci tutti di più collaborare tutti di più e poi se io vengo da te Andrea dico wow che maschio figo dai Andrea vendimelo cioè oppure guarda te ne do uno dei miei tu me ne dai uno dei tuoi si fa cambio ti do una femmina tu mi dai un maschio viceversa cioè perché se no continuiamo ad andare a buttare soldi agli asiatici che poi fanno le ville con perché ormai sono arrivati a questi livelli qua certo cioè vedi degli asiatici con macchine da 150 mila euro ville della madonna perché è così poi ricordiamoci sempre che 50 dollari per noi non sono 50 dollari per loro esatto esatto 50 dollari per uno stipendio mensile asiatico quanto sarà 200 euro eh sì cioè del contadino medio sì ecco tu quindi fai conto che se vendi un pesce come vendolo a noi a 500 euro i 50 euro da loro esatto dopo ci sono anche là anche là nel mercato interno ci sono pesci che sono venduti molto cari ma perché anche lì ritorniamo al suo discorso loro stanno comprando materiale da riproduzione quindi sono disposti a pagarlo tanto per fare determinati premi determinati certo certo ma io ho avuto anche allevatori che ho chiesto le femmine non me le hanno vendute ah no poi le femmine ma gli ho detto ma gli ho detto anche gli ho detto guarda che dimmi le pago perché erano veramente stratosferiche te le pago dimmi quanto vuoi te le do mi fa no non è cioè non te le vendo non me le ha vendute sì 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 succede in tante specie anche quei guppi non ti vendono le femmine sì sì perché perché il ceppo genetico nasce da lì non dal maschio eh sì il maschio è figo da vedere tutto quello ma se vuoi allevare punta sulle femmine verissimo e infatti fare bei piazzamenti con le femmine è sempre una gran soddisfazione eh sì eh sì perché ti porti a casa la base dell'allevamento quello che farai un domani eh sì invece purtroppo c'è cos'è uscita questa Alessandro chiede no ma in fondo allora cos'è Sex Shaper cos'è uscito lì ah spam aspetta qualche spam ecco esatto perché c'è sempre qualche pirlotto ecco fatto grazie per avermi detto che io non ero ancora arrivato eh no ogni tanto infatti butto l'occhio così per vedere no sul porno non siamo ancora nel mercato no ci stiamo attrezzando bravo esatto siamo ancora più bellini stiamo imparando no io ormai ormai ho finito ormai no dicevi c'era scusa un'altra e Alessandro dice eh un 36 litri cambia 5 litri eh è meglio si conta settimana ogni due e ritorniamo al stato di scorso meglio settimanale meglio settimanale meglio settimanale nel dubbio è meglio cambiare un litro in più che in meno nel dubbio quindi state sempre sul qualcosina in più che in meno eh Damiano invece ti chiede eh se hai mai elevato una linea di eh placca di crown tail no purtroppo no ma è una delle cose che probabilmente vorrò fare però devo ti piacciono i crown tail com'è ti piacciono i crown tail mi piacciono però se sono veramente di livello alto 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 se no vedi tanta roba che non eh lo so non ha senso neanche di mettersi in ballo secondo me però è una sfida stimolante perché vedo che anche sulle colorazioni adesso comincia a uscire qualcosa di nuovo anche sui crown tail però è difficile è difficile per i problemi che sai Andrea delle pinne del pinnaggio però nel frattempo è anche una sfida sì sì il problema è proprio quello lì cioè un animale comunque lasciando stare il fatto che sia delicato è che hai tanto scarto cioè per avere pesci belli allora se se con i placati hai il 70% di scarto col placati hai il 95% secondo me se vuoi puntare alla qualità eh se vuoi puntare posso invece certo perché lì devi lavorare su quanto sono bendri tiraggi quanto sono separati quanto sono ramificati la membrana quanto è com'è inizio a esserci tante più variabili e poi credo che anche a livello di alimentazione richiedono un qualcosina in più una qualità dell'acqua comunque ancora più alta però sai come tutte le cose un po' più difficili diventano anche sfide quindi belle ma guarda io come ti dicevo prima sono aperto a tutto gli unici che non allevero più sono gli alt moon ci sta mi odieranno quelli che giusto così ma no ma perché dico anche il perché ma non perché i pesci in sé non siano belli perché credo che l'uomo in questo caso abbia esagerato e quindi non do la colpa ai pesci eh i pesci non c'entra niente do la colpa agli uomini cioè per creare qualcosa perché poi la frase tipica delle persone wow che coda ok d'accordo ma lo vedi come nuota poverino sono persone chi fa questi commenti solitamente non riesce neanche a capire che l'animale sta male capito poverino fa 3 cm si appoggia ma è un po' come quando vedi quelle quelle mucche da carne quelle vacche da carne che dovrebbero pesare 5 quintali le portano a 18 e non riescono più neanche a camminare ma che senso ha che senso ha poi vabbè qualcuno mi odierà va bene però no no vabbè ma alla fine no ma però dico perché l'uomo deve sempre esagerare andare perché vedi veramente dei pinnaggi a volte che sono una roba wow saluto chiunque si sia collegato non ci stiamo un po' dietro stiamo recuperando ancora dei messaggi siamo sempre un buon numero siamo sempre un buon numero abbiamo toccato le 40 persone ah però wow grazie a tutti davvero grazie a tutti veramente Vincenzo ti chiede se porterai il concorso 5 maschi e 5 femmine no allora dovrei portare allora le femmine forse 2 o 3 femmine e il resto maschi adesso devo valutare se una femmina o no se sono 8 maschi e 2 femmine o 7 maschi e 3 femmine ok comunque più maschi più maschi più maschi sì sì perché poi si senti più più maschi no anche perché non ho altre femmine ora non ho altre femmine proprio non le ho ho proprio quelle che ho selezionato per me ho una femmina ma che ho importato che è quella la black star gold che non so se avevi visto ho visto ho visto che avevo preso anche il maschio che è morto là prima di partire e quindi sto aspettando a fine mese luglio che mi arrivi un altro maschio sempre che ho preso da questo però mi arriverà a fine luglio quindi lo andrò poi a fare l'accoppiamento dopo più avanti ormai sì un po' un peccato perché perdersi questi mesi che sono molto buoni eh lo so lo so lo so lo so lo so cavolo e meno male che è morto l'altra cioè meno male poverino il pesce voglio dire sì sì però ma pensa che è morto mi dice ma gli ho detto ma scusa ma se avevi da femmina niente il maschio perché è morto mi fa è perché il ragazzo che ha preparato i sacchetti l'ha lasciato al sole che sfiga cioè io dico ma cazzo se l'hai dimenticato lì eh poverino l'ha fatto fare una fine così e quindi col discorso sai che l'Olan Betta Show comunque il show non puoi portare pesci importati ma solo pesci nati da te allevati da te e quindi quella non la porterei perché è una bella femmina anche quella però certo vabbè magari per un prossimo show potresti portare sì 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 no quello sì sicuramente sicuramente ecco una cosa che ci tengo a dire no tanta gente dice ah vabbè facile fare i primi premi o comunque dei buoni piazzamenti partendo dagli animali già validi e qua in realtà non è vero perché la difficoltà sta intanto nel riprodurli crescerli saperli crescere bene perché comunque un pesce che non cresce bene non sarà bello come i genitori e questo anche nello sviluppo nello sviluppo del pinnaggio non sarà male esatto e soprattutto la capacità di saper scegliere quali pesci mandare esatto cioè sapendo che i posti con cui puoi partecipare sono limitati perché ne puoi mandare 10 eh tu devi scegliere i 10 migliori magari dei tuoi 300 per scegliere è qualità ecco adesso diciamo che ho il punto di domanda tra virgolette perché nelle niviate fuori alla metà di agosto quando siccome l'Olan Beta Show è il 19 agosto quelli che ho fuori essendo nati 30 aprile quindi è maggio giugno luglio agosto avranno tre mesi e mezzo quindi dico boh magari forse uno o due di quelli magari boh non lo so perché tre mesi e mezzo magari qualcuno che ha uno sviluppo magari più precoce diciamo degli altri magari mi piacerebbe tanto uno o due poterli portare a dire la verità allora a dire la verità tre li ho già selezionati li ho già separati sono già sotto controllo no però vabbè magari poi non si sviluppano non hanno la crescita giusta quindi ho letto provo diciamo sono in panchina diciamo sì ecco anche perché comunque c'è da tenere in considerazione che partecipare a dei concorsi comunque per gli animali è anche un po' stressante eh sì ecco ecco una cosa che io anche qui ci terrei a precisare che va apprezzato in un elevatore che comunque mette a rischio i propri animali ovviamente consapevoli di quello che fa certo proprio per far vedere a tutti che belli animali ha ecco questa è una cosa da apprezzare secondo me spero che la gente apprezzi spero perché io allora sono sincero aspetta che qui sta accadendo allora sono sincero metti a rischio perché una cosa che tanta gente non sa che quando vai a partecipare a questi concorsi gli organizzatori ti dicono allora consigliano di non alimentare le 24 36 ore prima dell'insacchettamento i pesci per non far sì che sporchino con le loro feci l'acqua durante nei sacchetti una cosa o l'altra e là nelle vasche non mangiano e poi finché torni quindi stanno in giro io starò in giro sei giorni con eventuali spese costi eccetera eccetera e spero che venga apprezzata questa cosa perché insomma è un sacrificio a livello di economico perché a me non tornerà indietro niente al di là della soddisfazione di cui sono strafelice però mi devo fare 2000 km mettere a rischio i pesci migliori che ho metti che mi muoia un paio di maschi durante la per dire o una fece però vabbè non è accetto il rischio va benissimo ci mancherebbe allora ti scelgo qualche domanda un po' più interessante come vuoi come vuoi Alex ci dice prima si parlava di beta da voto scolastico 6,8,10 eccetera malevando soprattutto agli inizi si hanno anche voti come deformità una o deformità sì in senso molto scarto quanto tempo hai impiegato per minimizzare la problematica allora Alex per minimizzare intendi nella selezione quanto hai evitato gli scarti oppure o quanto ci ho messo a capire cos'era di scarto tra virgolette cos'era di qualità uso la parola brutta di scarto penso che abbia penso che dicesse come evitare che nasca un deforme o comunque come avere animali deformi e soprattutto da avere che i più scarsi siano già un 6 e non più ok ok allora parti sempre dal presupposto che quando vai a scegliere una coppia di riproduttori devi sceglierla ovviamente non che abbia 5 anni per dire ok cioè comunque esemplari giovani in piena salute vivaci che abbiano una buona un carattere diciamo tra virgolette aggressivo comunque che siano attivi e che siano comunque in piena salute che mangino controlla io guardo una cosa ad esempio che controllo molto nei miei pesci ad esempio li conosco uno per uno come mangiano c'è lo stronzo che guarda e non mangia lo mangia dopo c'è quello che non sei ancora arrivato già salta fuori dall'accia è importante capire come un pesce mangia con la voglia è fondamentale scegliere un pesce così un pesce che sia vivace che sia vorace nel mangiare perché queste qualità perché un pesce che mangia sarà comunque sempre in ottima salute uno che è sempre un po' mangio un giorno sì un giorno no ma per tornare al discorso quindi dovrai scegliere la coppia ok riferendoti sempre allo standard cioè tu dici se io voglio allora se lo fai perché vuoi fare una riproduzione per divertirti vabbè amen prendi una coppia la fai riproduzione ma se vuoi allevare devi cercare di andare avvicinati il più possibile allo standard che c'è dell'IBC o del Betas for All eccetera eccetera scegliere poi la colorazione che ti va e soprattutto durante la guardare soprattutto che gli animali non abbiano difetti che non abbiano difetti sulla schiena nella testa nel pinnaggio e cose così una volta scelti gli animali dovrai prepararli anche fisicamente alimentarli in un certo modo per portarli alla riproduzione ok detto questo una volta nati ammettiamo le poste le uova nascono gli avanotti qui qui diventa diciamo nasce il problema dovete stare molto attenti alla qualità dell'acqua ai cambi dell'acqua all'alimentazione che non ci siano zone anossiche nella vasca perché a volte purtroppo in certe vasche vedo si formano veramente zone anossiche e i bettini nei primi giorni qualcuno ci lascia la pelle ne soffre io te lo dico nelle prime enediate che facevo attualmente non più sinceramente a livello di scarto tra virgolette ho poca roba dopo magari a livello di standard che è un'altra cosa no no animali deformi non è più animali deformi no 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 deformi no non ne ho più e l'hai risolto appunto con una qualità selezionando 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 devi essere è brutta la parola però devi essere un po' spietato in questo senso cioè è inutile che dici poverino ha la schiena ha la schiena storta però gli voglio bene lo riprodu no perché creerai ancora dei pesci che soffriranno che staranno male poi se ce l'hai come il tuo pesce perché ti fa benissimo è un altro discorso ma per allevare devi essere un po' spietato e selezionare e qui ci colleghiamo alla domanda di Matteo che dice potreste dare qualche consiglio su come ottimizzare lo spazio per gestire più riproduzioni ok bella domanda caspita allora io se vuoi rispondere anche tu Andrea vai tranquillo vai 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 io ti do io do sempre un consiglio poi chiaramente bisogna vedere uno che possibilità che spazio ha che disponibilità di vasche A chiaramente certo se uno ha una fish room con 300 vasche con va bene allora puoi fare però io consiglio sempre perché vedo che tendenzialmente non è che c'è gente che abbiano spazi infiniti no partite con una riproduzione e imparate perché poi se vi trovate perché si è bello fare le riproduzioni vedere che si accoppiano o nascono va benissimo però poi se ti trovi 400 500 pesci poi cosa ne fai quando devi separare i maschi quando ti trovi 250 300 maschi separati è un casino è un casino a livello di spazio primo perché dove li metti è un casino a livello di gestione perché ti impegnano le ore e poi perché allora iniziate con una riproduzione fate esperienza imparate come crescerli quando vanno separati come vanno separati l'alimentazione cominciate a imparare a capire fare esperienza poi dici ho fatto una riproduzione me la sono gestita da dio provo con due io ho sempre fatto una riproduzione all'anno fino a poco tempo fa adesso ho iniziato sapendo che tra poco spero avrò la fish room di là ho fatto tre ho fatto il ganas faccio tre poi ogni tanto li guardo fuori e dico quanti sono però va bene me li gestirò però perché adesso ho uno spazio avrò uno spazio a disposizione perché guarda che io già adesso a me mi van via 4-5 ore tutti i giorni se li vuoi tenere bene perché no poi cosa succede che ho visto gente in passato siccome dice adesso ho 400 pesce e vabbè allora li lascio tutti assieme vada come vada e no perché allora che senso ha partite piano che tanto vada ricchi non diventate non fate la moltiplicazione più riproduzione faccio più soldi faccio non esiste fatene poche ma fatele bene di qualità perché dico sempre che allevare pesci brutti o belli costa uguale eh sì che mangiano uguale cambia acqua uguale quelli brutti non li vorrà nessuno quelli belli li vendi esatto poi c'è il problema con lì un altro problema è dove li metti tutti quegli animali ad un certo punto raggiungono la taglia giusta sì tre mesi tre mesi e mezzo li togli gli altri devi avere il giro devi avere un negozio che te li compra un privato che te li compra non è facile non è facile anche perché un negozio mediamente se ti compra dieci betta al mese sono tanti devi fare i salti mortali fai i salti mortali che poi devi anche dire quanto mi dà ti dà il prezzo che li compra da grossista se non anche meno anche meno che sarà poco però va benissimo ci sta ci sta però ecco io il mio giro me lo sono fatto un po' negli anni non è che io il primo anno quello che consiglio sempre come dicevo prima di lavorare con la qualità ma di essere serio cioè di metterci sempre la faccia sì cioè devi metterci la faccia io quando viene gente dico ragazzi se c'è qualcosa Marco è qui venite qui non c'è nessun problema se c'è qualcosa ti do un altro pesce cioè devi essere serio e professionale se vuoi fare se vuoi far crescere il tuo credito perché se cominci a fregare una persona due tre la voce gira sei finito sei finito ma io vi dico permesso che condivido al 100% quello che dici mi permetto solo di aggiungere due cose uno è che se avete budget potete ottimizzare con dei drip system quindi delle strutture che costano molti soldi che però vi danno una soluzione di spazio e di manutenzione manutenzione eh sì se fatti con i giusti criteri possono essere delle soluzioni valide e un'altra è una soluzione che la dico prendete però con le pinze so che non tutti va bene e c'è che fare molta selezione prima ancora cioè di scartare proprio nel senso di dare impasto ad alcuni avanotti a dei pesci più grandi quindi da 100 che ne abbiamo non li porteremo ad ulti 100 ma magari solo i 30 più grossi gli altri più piccoli li scremiamo ecco sono cose che comunque si fanno secondo me in alcuni contesti può anche aver senso da farle eh l'etica poi sta al singolo deciderla se giusto o no sappiate che comunque qui è una cosa molto dibattuta saprai già che ci sarà qualcuno che dirà certo ma io dico le cose nel senso non è che intanto io ho una riproduzione di bete in questo momento quindi e me ne sono sopravvissuti sette perché sono stati in vacanza due giorni quindi non è che non tanti eh sì 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 e beh quindi nel senso il discorso è comunque negli allevamenti da cui comprate non italiani questa cosa succede già solo che non lo sapete perché non li vedi perché ho parlato quando sono stato là più volte certo il tubo dove cresci i piccoli hai in mezzo un bellissimo cilindro che tu alzi e gli scarti finiscono nel laghetto dove ci sono tutti i vari cianna o predatori del genere si sa nel senso non si sa ma vai a dirlo qui però no io lo so io lo so io non voglio farlo dico che comunque è una cosa che si fa ma guarda se vuoi affrontare questo discorso che è molto delicato ma succede in natura sì beh poi tra l'altro certo Marco non è che da mille che nascono mille e diventano adulti cioè quando esatto quando tu vedi guarda proprio ieri sera vedevo un documentario che erano in Amazzonia ma non ho capito quale tipo di pesce fosse perché era ripreso dall'altro con i droni no e c'era questa copia che avrà avuto 2000 avanotti intorno ma tu pensi che diventano tutti grandi questi avanotti no perché i predatori gli uccelli uno e l'altro e quell'altro magari ne restano 200 ma come tutte come le tartarughe marine ne nascono mille ma arrivano in età adulte 4 ma perché la natura è così seleziona i più deboli seleziona i più fragili infatti a modo mio di vedere in realtà un criterio valido per selezionare proprio i più grandi nei primi momenti cioè quelli che sono già un po' indietro di crescita so che magari diventeranno belli eccetera perché un domani poi è però a me piace come metodo di allevamento dei pesci che siano veloci a crescere cioè quello per me è fondamentale come criterio sì sì devi avere le idee chiare su cosa fare esatto ognuno c'è il suo e poi potremmo stare qui 15 giorni a dibattere che ognuno avrà la sua idea esatto Marco ci chiede una cosa interessantissima che sono curioso anch'io se quando sarai all'Olambetta Show farai delle dirette o dei video comunque sì sì penso proprio di sì dai ci sta ci sta siccome mi conosco penso proprio di sì io sono abbastanza videodipendente ma non ma non tanto proprio perché mi piace coinvolgere le persone amiche cioè è bella questa cosa qui l'idea di vedere una diretta magari anche durante il percorso della strada mentre arriviamo è bello bello sì comunque sicuramente farò delle dirette poi dei video poi se invece andrà male cancellerò tutto e via non faccio vedere niente sì ci sta cacello tutto e vabbè Vincenzo ribadisce infatti che la capacità di un bravo elevatore è anche quella di saper scegliere i soggetti e di aver occhio ovviamente al dettaglio e ci sto in pieno sì 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 guarda Vincenzo ha uno dei maschi miei lui ti può dire se sei trovato bene o se sei trovato male no ci prendiamo sempre in giro perché poi l'ha fatto riprodurre ed è rimasto veramente contento quando l'ha visto di persona perché poi sai tanti mi dicono ah tu Marco sei bravo a fare i video ma chissà cosa farai no allora io allora sono sincero quando vado a rivedere i video che facevo anni fa dico mica che cagate che facevo c'era proprio dei video proprio brutti poi è chiaro nella vita impari il trucchetto questo e quello però la cosa che mi dà soddisfazione sai cos'è Andrea che quando le persone vedono e qui tiro in ballo Vincenzo Marika Laura e via via altre persone quando li vedono di persona mi dicono cavolo sono più belli dal vivo che dal tuo vivo caspita questa è una bella soddisfazione perché se arrivasse il pesce mi dice cazzo Marco ma l'hai fatto vedere il rosso è arrivato che è verde ma hai fregato hai capito allora uno dice allora con i video chissà cosa farai invece quando li vedono di persona e ti dicono porca miseria che bello che è più bello ancora ecco queste sono le soddisfazioni queste sono le vere di soddisfazione guarda leggi cosa ha scritto Vincenzo in fondo eccolo qua garantisco che i pesci visti di presenza sono ancora molti più belli rispetto ai video che fa ok grande grande e anche Simone dice che i video non rendono ecco Simone un altro che anche lui due maschi miei esatto e anche ovviamente Marika dice la stessa cosa grandi grandi ragazzi sono proprio felice no no anche io sono felice ma perché vedi al di là di tutto io non ho permette passami il termine dei clienti io dagli amici ci sentiamo tutti i giorni ci mandiamo il buongiorno allora ci prendiamo in giro cioè è nata sono nate delle amicizie capisci ma è bello questo questo è bello cioè io non è che dico boh hai preso il pesce non mi rompere più le scatole boh basta no cioè ogni tanto ti posso disturbare avrei quella cosa cioè il bello è questo qui se no che senso ha che senso ha e vincenzo ceruso invece ci chiede nella mediata di 40 giorni ci sono degli avanotti ben definiti e altri invece che sono molto molto più piccoli da che cosa dipende? l'ho già detto a vincenzo dipende dalla dall'alimentazione io credo nel suo caso dall'alimentazione e spiego perché perché vincenzo non dà vivo ai piccoli ma dà secco robe così cibo secco diciamo polverizzato e a volte se non ricordo male anguillole e sicuramente qualche esemplare secondo me ne può risentire e può sicuramente risentire e tu confermerai sicuramente l'alimentazione in quelle fasi è fondamentale in quelle fasi soprattutto bravo quelle fasi e dopo ci sta il più forte e quello un po' più spigato sì 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 ma quello anche se dà il vivo però se senza vivo sarai sempre un po' più indietro rispetto a chi usa il vivo purtroppo fa la differenza fa la differenza tutta la vita fa la differenza tutta la vita soprattutto l'attemia secondo me i naupli di attemia imbattibile insostitibile io sai che ho combattuto una battaglia su questa cosa ma secondo me è un alimento ma che tutta tutto il mondo dell'acquariofilia che alleva usa i naupli di attemia che siano scalari che siano qualsiasi roba cioè è fondamentale è fondamentale Marco ma ti dico di più tutto il mondo dell'acquacultura quindi dove girano i veri soldi usa l'artemia è capito ma usa i pentoloni di attemia dico se in quel mondo lì dove ci sono i milioni dietro non hanno trovato un'altra soluzione vuol dire che è la migliore no ma a parte un'altra soluzione ma soprattutto non hai avuto controindicazioni perché magari non hai un'altra soluzione ma magari non va bene neanche questa ma se la continui a usare ma io li vedo crescono a vista doppio io poi faccio sempre un mix di naupli di attemia microworm anguillole poi perché io noto sono sincero io vado avanti perché io il polverizzato a me non me lo mangia fin a una certa iniziano verso il mese verso il mese cominciano un po' poi cominci un po' coi microworm scusami coi madonna che fresh coi gringal no 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 vabbè i vermi rossi aiutami ah il chironomus il chironomus mamma mia che fresh ok il chironomus ecco allora lì le artemie le congelate eccetera eccetera io adesso fuori ho dei secchi dove ho le le dafnie che ho preso da Mario ne ho preso un bel po' là da lui e in più ho le larve di zanzare che mi nascono perché ho un po' di zanzare che vanno e quindi faccio un po' di uno un po' di l'altro vanno veramente no no fanno benissimo fanno benissimo adesso infatti cioè questo è un periodo ottimo sia per riprodurre anche perché appunto e ci colleghiamo alla domanda di Nicole riesci a ottimizzare lo spazio perché non devi riscaldare cosa che in realtà d'inverno è un grande limite per noi gestire a livello climatico sì oltre al costo è un limite è un limite è un costo Nicole infatti ci dice è difficile anche solo partire se già è solo un'inviata di 50 dove li metti tutti soprattutto quando sei un nessuno che magari non riesci neanche a trovare gente a cui cederli esatto ma soprattutto perché è un pesce particolare perché non è come gli altri pesci dici mi faccio 200 litri li butto dentro tutto vada come vada no i maschi li devi separare li devi separare se no un macello sì poi malato come sono io separo anche le femmine ma un altro discorso però ad esempio io no io no io le lascio insieme ti dico la verità non ho mai avuto nessun problema però giustamente andrebbero separate anche le femmine se stai a guardare però vedo che comunque vivono tranquillamente sì no 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 certo 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 e poi il fatto è che non è neanche un pesce che il negoziante può prendere in grandi quantità perché anche lui ha lo stesso problema di tu esatto 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 non è che tu gli puoi dare 100 maschi magari non ha neanche 100 vaschi dove metterli per dire esatto adesso poi tu dice non li venderò mai esatto esatto no no ma è è bello è impegnativo ma proprio per questo è molto affascinante io dico sempre che il beta permettimi questa accezione così secondo me è forse l'unico pesce tra virgolette intelligente che veramente interagisce con l'uomo cioè dico intelligente tra virgolette per carità cioè io vedo anche con i piccoli fuori io al mattino vado dentro mi faccio esempio scongelo i chironobus me li tengo sulla mano loro vengono sulla mano in 50 80 a mangiare un giorno ti farò un video e lo faccio dai ci sai così è bellissimo ma è bellissimo è una roba fantastica non hanno paura appena ti vedono arrivano tutti sopra a mangiare cioè sono veramente belli sono veramente belli allora recupero Ettore che ci dice ah grande Ettore cosa ci dici delle stupende colorazioni che mutano nelle tue meravigliose creature ok allora cerco di interpretare la domanda che mutano nel senso allora nella genetica che io allevo che sia multicolor coppere comunque sono sempre di genetica marble e quindi è sempre un terno all'otto chiaramente no però è anche vero che se nel tempo sei andato a selezionare su certe colorazioni e le stai fissando è chiaro che in linea di maggioranza avrai quel tipo di colorazione poi a me piace molto anche ad esempio ho fatto queste coppie che ho fatto adesso ho fatto questo maschio rosso nero copper con la mia femmina sempre mio maschio anche lui con la mia femmina gold copper che era proprio aveva molto oro e mi piaceva l'idea infatti questo è quello che mi piacerebbe che vengano comunque col nero e con l'oro con questo mix di colore con i riflessi copper mi piacerebbe poter magari anche 4 o 5 ma tirarvi fuori così per da lì provare a tirar fuori poi avanti qualcosa poi magari non verrà un bel progetto poi magari non verrà niente però così mi piaceva mi piaceva però i piscineri ti hanno sempre affascinato sempre 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 è del black orchid che citavi prima secondo me i black orchid sono tra una delle colorazioni più affascinanti perché se lo vedi nell'Alfmo una cosa grossa è fighissimo è combattibile guarda se trovo il video ce l'ho da qualche parte sull'hard disk ti mando quando ho preso quel maschio lì era una roba strepitosa se prendi i placard sono fighissimi se prendi i crown tail altrettanto sì forse crown tail a gusto mio ancora più fighi i black orchid ancora più fighi perché se prendi il king crown tail che è il black orchid è una roba è spaziale è spaziale veramente bello e quindi la mutazione ecco diciamo la mutazione ti dicevo caro Ettore che purtroppo con i torno un po' al discorso prima della riproduzione bisogna avere molta pazienza aspettare e vedere lasciare andare i pesci che vadano in definizione di colore perché purtroppo puoi commettere degli sbagli accoppiandoli giovani perché questi vai a letto il sabato sera sono neri e alzi la domenica mattina sono blu sono rossi sono metà e metà però è molto figa però è fighissimo perché comunque è sempre un ternolo perché perché poi sai cosa ho notato Andrea che col passare del tempo non peggiorano ma migliorano e quindi quello che tu ti aspetti nella tua testa dici porca miseria perché poi adesso ormai ho l'occhio capisci quando dici porca miseria questo tra un giorno ha cambiato colore perché cominciano si sbiancano era nero si sbianca poi comincia a uscire il rosso comincia a uscire il copper come noi e quindi non sai cosa ti riserva la settimana dopo o fra due mesi e quindi è anche figa sta cosa è molto bella cioè dopo per chi seleziona è mi rendo conto è un termolotto è un termolotto per chi c'è la casa se lo gode è caspita è simpatica come cosa è simpatica ma anche quando tu dici per uno che alleva è complicato perché ti diventi matto però qui devi andare è distinto ok è distinto ed esperienza perché è quello che ti ha insegnato gli anni prima perché io me li ricordo tutti perché quello là ha fatto la mutazione così da così è diventato cosa ora dici fatti vedi uno che sta facendo ancora ogni tanto dico delle parole e quindi capisci che potrà arrivare qualcosa di simile quindi l'istinto tu dici come fai tu Marco a selezionare tra 50 maschi che hai quelli che vuoi tenere li ho tenuti in base a quelle 4-5 caratteristiche ti dicevo prima portamente portamento carattere standard colore vivacità cioè quando io ho dei maschi che se gli passo davanti vanno imparata a passargli davanti c'è una figata se tu hai lì uno che dorme a me mi viene voglia di prendere se mi fanno cazzare che betta sei voglio dire guarda ti metto in evidenza a Roberto che salutiamo il nostro grande ti mando un bacio perché lui ovviamente ti fa lì in bocca al lupo per Olanda eh no ma il mitico è lui che mi ha fatto partire l'embolo a fare questa cosa qui e gli dirò sempre grazie e gli dirò sempre pensa che non ci conosciamo neanche di persone guarda io ho iniziato a levare betta grazie a lui quindi ecco guarda ancora 11 anni fa sì sì Roberto è veramente un grande guarda guarda allora ti dico Roberto conferma se ho detto una cazzata prima quando hai detto che mi avresti preso a calci se non andavo qui e te lo confermerai sì sì è stato forte mi fa e poi mi fa e poi andrai a festeggiare no mi ha detto porterai i pesci ai quartieri a luci rossa mi ha detto dopo devono devono divertirsi anche loro devono divertirsi anche loro esatto no no è stata una conversazione bella emozionante allegra simpatica ma c'è stata molto emozione perché a me non so perché ma lui è riuscito ad arrivare allora io ho tanta gente che mi sostiene Milena in primis tanti amici cioè lo dico a volte litigo anche perché io ho le mie idee lei mi dice no ma perché tu vuoi fare così io gli dico no ma non lo faccio guarda che dice confermo e quindi dico io vado avanti un po' con la mia testa nel senso che se poi ascolti tutti diventi anche un po' ma devi avere anche un po' le idee chiare tu e prenderti una tua direzione ma lui è riuscito a fare centro cioè ha toccato quella cosa dentro di me che io tenevo nascosto a tutti e non avevo il coraggio di dire a nessuno perché è una cosa mia intima di una promessa che avevo fatto una persona tanti anni fa nel 2000 nel 2000 ma non riuscivo a dirla a nessuno e lui ha tirato una freccetta boom 100 cioè hai capito lui lo sa guarda lì che mi sente sono crollato come una pera cioè a volte per dirti come certe persone riescono a fare a fare centro comunque grazie di tutto Roberto te ne sarò sempre grato eh sì ma adesso lo cominciamo comunque a venire magari al pet festival che così e soprattutto siccome dico che è ancora un giudice inattivo perché bisogna dirlo che è un giudice inattivo lascia stare un po' le galline i polli e tutto diciamolo diciamolo ok e buttati un po' nei beta però un po' l'avevo l'avevo un po' istigato perché aveva cominciato ma quasi quasi fa mi sa che ma basta una copietta non è che una copietta esatto esatto dai Roberto che c'è bisogno di gente come te sì al pet festival deve venire a trovarci a che modo se no non gli parlo più basta rispondiamo a Marco che invece dice che oggi ha comprato il suo primissimo Alcun è normale che sia così intimorito vabbè normale no normale no però sai e lì torniamo al discorso di prima di che selezione è stata fatta dietro perché se in quel caso accoppi solo perché hanno delle code grosse ma non ti importa di che carattere hanno poi vengono questi pesci che hanno sempre paura si mettono in un angolo intimoriti spaventati perché hanno poco carattere ma un po' come noi sono persone che sono più caratteriali altri meno poi o comunque ci sta al fine il primo giorno magari il primo giorno ci può stare che magari l'ambientamento magari poverino era appena arrivato anche in vasca in negozio lo prendi da là lo porti di qui dagli allora io ti dico magari anche durante il giorno lascialo a luci spente tranquillamente che tanto per un giorno o due non succede mica niente magari lui ha un po' più tranquillità per ambientarsi conoscere il posto però è vero ci sono pesci che sono più timidi di altri sì quello 100% e non lo prendi nel senso così è no no ce l'hai ce l'hai io ad esempio amici che hanno preso pesci da me mi fa Marco quando li tiro fuori che sono ancora nel sacchetto mentre sono nel sacchetto vanno in parata che mi vedono perché sono incazzati così cioè e ci sono altri invece che magari sono più timidi però è vero che poi magari col tempo e l'ambientamento Marco potrà sicuramente migliorare sicuramente comunque Marika dice che i tuoi lo sono sempre è vero Marika che già nel sacchetto erano incazzati io non ho voluto fare il nome ma era lei di cui parlavo è vero è vero è così però è una soddisfazione è una soddisfazione Enrico invece dice confermo quello che avete detto anche il mio negoziante purtroppo predilige Betta con i bei codoni tipo Crown e Lualpun i miei placati fa fatica a venderli anche se li do belli e colorati lo so lo so perché il codone fa appariscenza fa wow eh sì così no no ma allora ripeto hanno un mercato diverso hanno un mercato diverso sono più appariscenti quindi colpiscono di più l'immaginario soprattutto del neofita secondo me non sei d'accordo io io condivido al cento per cento cioè io so che chi forse esempio mio fratello mia amorosa ma guarda che ma guarda che io 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 stesso ho fatto la stessa cosa quando ho visto i primi wow dicevo madonna è chiaro così è così effettivamente ti vedi questo pesciolino piccolo così ma con una coda enorme tutta vaporosa colorata mi ha tornare un po' imparata è un po' il pavone dei pesci esatto esattamente esattamente ma no che per carità quando li vedi sono fighissimi però hanno quell'aspetto che ti dicevo prima che no 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 Plakat tutta la vita guarda infatti Simone dice conosco Plakat che hanno fatto il nido nel sacchetto esattamente il suo hanno fatto il nido nel sacchetto e questo a me inorgoglisce veramente perché è sinonimo di salute del pesce che è levato bene che sta bene è tanta roba credimi è tanta roba è tanta roba veramente cioè queste sono le soddisfazioni quando ti arrivano i commenti wow guarda madonna che pesce che mi ho preso guarda oppure quando vengono qui che li vedono c'era una ragazza la vera di Treviso mi sembra delle tue parti gli diceva quando vengo da te Marco mi sembra diventare in un negozio di caramelle non so mai quale scegliere perché è quello è quello cioè quella è la soddisfazione quello è bello quello è bello comunque Marco ne approfitto io devo organizzare devi venire da te comunque quando vuoi quando vuoi quando vuoi ci siamo sempre visti in territori neutri esatto in territori neutri ci siamo conosciuti e io dovrò venire da te chiaramente certo vengo vengo anche perché approfitto per chi non lo sa Andrea ha appena aperto il negozio online giusto ah sì è vero quindi giustamente ti faccio pubblicità perché lo meriti te l'ho sempre detto di persona sei un ragazzo serio una persona professionale quindi sappiate che avete un punto di riferimento con Andrea perché è veramente un ragazzo bravo ragazzo ok ma sei anche serio e professionale grazie grazie adesso stiamo lavorando eh non c'è non è ancora tantissimo negozio piano piano e poi sai quella cosa che ti avevo detto pensaci pensaci perché vada ci sono in giro di quelle robe che lo so ti racconterò in privato di quel discorso lì apro chiudo parentesi mi sono informato ho fatto dei ragionamenti con con chi con chi farlo ci stiamo lavorando c'è un problema solo che è i numeri cioè per poche robe si fa un po' fatica però se fai dieci pesci no chiaramente però si ma anche è una cosa anche col tempo piano piano però cominciare a capire questa cosa comunque ripeto ti aspetto quando vuoi si si organizziamo che vengo facciamo anche un bel fish room tour quando vuoi guarda appena allora facciamo così appena avrò sistemato un po' di là tutta la situazione che è una cosa un po' più bella anche da vedere io dico sempre a tutte le porte in casa mia sono sempre aperte a tutti e dopo mi porti a mangiare in un posto con i casoncelli buoni va benissimo ah guarda se sarà andare a mangiare numero uno conosco i posti perfetto ma no tranquillo tranquillo recupero Vincenzo poi ragazzi ultima domandina a cui rispondiamo che ormai è già un'ora e mezza che siamo in live e cerchiamo un po' di tirare le somme anche perché appunto inizia a saltare dino e Vincenzo dice ho avuto delle femmine che poi sono diventati maschi parliamone potrei scriverti un libro se vuoi sì 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 è vero Vincenzo allora è capitato alcune volte anche a me soprattutto quando sei nella fase dei due mesi due mesi e mezzo tre mesi quella fase lì in cui perché poi la differenza tra i placati e gli alfmona coda grossa è che gli alfmona coda grossa li distingui già prima maschi e femmine fai abbastanza più facile insomma distinguere maschi e femmine nei placati è un po' più difficile allora qui l'ho già spiegata altre volte la situazione è questa quando hai allevi hai un gruppo di pesci 50 80 80 100 pesci alcuni praticamente simulano di essere femmine per non essere sottoposti agli attacchi dei maschi dominanti ok quindi tu dici bom allora c'ho 30 femmine 40 maschi sono a posto poi separi i 40 maschi e ti rendi conto che dei 30 femmine c'hai ancora 20 maschi e dici porca miseria allora sono tutti maschi perché proprio ma è proprio per una questione naturale perché sanno di non essere il maschio alfa diciamo per eccellenza quindi si sottomettono assumendo questa diciamo atteggiamento da femmina una volta liberato dal maschio alfa e cominciano a cambiare il pinnaggio l'atteggiamento crescono è così è così poi c'è perché a me piace selezionare cioè separare tutti eh lo so lo so ma l'avevo capito perché l'avevo facevi l'avevo capito perché l'avevo facevi perché ho avuto brutte esperienze su queste cose qua sai cos'è il brutto è a volte che magari tu vendi ed è capitato ad esempio anche a Guenda e Lorenzo che sono venuti hanno scelto loro vogliamo queste queste femmine poi magari un paio li sono diventati maschi cazzo e dici madonna sembra di fare delle figure ma allora non capisci niente ma in età adulta poi non cambiano più sette, otto, nove mesi non cambiano più ma in quell'età lì due, tre tre mesi e mezzo è veramente difficile ed è giusto quello che dici tu Andrea andrebbero selezionati uno per uno cioè a me ti dico io sono un po' malato perché ho avuto una bruttissima esperienza in cui avevo messo queste femmine insieme e alcune mie altre non mie per ottimizzare lo spazio l'ho messo insieme una di queste non era una femmina ha fatto il nido si sono accoppiati nel giro di una notte e nell'accoppiamento mi ha rovinato altre femmine che per me erano molto validi da utilizzare come riproduttrici e sai comunque l'animale rovinato sì la genetica la porta avanti di lo stesso e tutto però ti fa girare capito e quindi da lì ho detto beh se posso separare separo dopo chiaro io non ho i numeri che tu di pesci eh certo in base sono i numeri certo che se anch'io avessi in totale che ne so 30 pesci non separo tutti esatto no no è giusto fare così è giusto fare così è giusto no sto leggendo lì perché mi fa ridere perché dico Simone dice a Matteo che penso sia ok Matteo capito facciamo un pulmino e andiamo da mare poi resta senza ponder beh potremmo farlo potremmo farlo dai ma ci si potrebbe una volta anche trovare andare a pranzare una domenica un sabato che ne so tutti assieme ci facciamo magari una strada una via di mezzo facciamo che è bello cavoli dai ci si vede un po' visto gli anni che abbiamo passati chiusi in casa poi e in che senso rovinato è nel senso che ci sono il maschio per scacciare altre femmine le ha morse le ha rovinate le pinne le ha proprio strappate le pinne cosa che è la riproduzione però in quel caso erano degli esemplari con cui non si è riprodotto magari a volte si feriscono anche a volte si feriscono anche e poi magari possono partire infezioni robe del genere quindi diventa no io sono dall'idea che se si può si devono preservare poi se capita ma rovinare passami il termine i riproduttori ci sta ci sta no i riproduttori ci sta perché quando sono dentro quello che poi cedi un po' non significa tanto no no perché dà l'idea di una cosa traspurata dà l'idea di una cosa traspurata non tenuta bene non piace nemmeno a me esatto esatto oltretutto nel giudizio parlando tornando agli show che fanno nel giudizio addirittura e questo me lo diceva anche Eugenio Roberto che controllano le squame se gli mancano due squame sei penalizzato di certo quindi capisci che un morso magari ti può rovinare il lavoro di mesi si hai capito cioè quindi certo veramente veramente difficile ragazzi mi spiace non poter recuperarvi tutti se Marco è disponibile magari organizziamo una seconda serata in cui io sono sempre disponibile in cui chiacchieriamo ancora recuperiamo quelli che non siamo riusciti a rispondere e tutti i vostri dubbi purtroppo si è fatta comunque da una certa ora è un'ora e quaranta che siamo in live è un'ora e quaranta sì ci sta adesso va bene va bene io te l'ho detto Andrea per me è sempre un piacere un onore sono disponibile ci organizziamo ci organizziamo molto volentieri 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 io allora la quota quanto sei a me piace sapere se mi hanno seguito gli amici quanti siamo ancora allora adesso siamo in 30 lo picco più alto eravamo a te lo dico subito 48 ah però dai è stato bello no? bello dai bellissimo bellissimo dai fatto piacere no ma ecco sottolineo e seguite il canale di youtube di Andrea che fa cose veramente fighe belle interessanti e seguite instagram e facebook di Marco che trovate in descrizione tra l'altro esatto 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 no no ma io allora io lo dico sempre in confronto a te guarda il mio sogno poi salutiamo era fare il biologo marino quindi io ti invidio da morire te ma no no ma ti spiego perché io non ho non ho nessun tipo di problema io non ho avuto la possibilità di poterlo fare i miei genitori non se lo potevano permettere abbiamo io e te siamo di due generazioni diverse non di una di due e io invidio la gente come te che ha avuto la possibilità ma ha avuto la capacità di portare a termine il progetto quindi ho tanta stima e ti voglio bene grazie comunque sui betta sicuramente non ho nulla da insegnarti no beh cosa vuol dire dopo uno magari sa una cosa più in una cosa però tu hai una panoramica su tantissime cose sì vabbè ma io non fare il modesto Andrea bravo seguitelo però ti dico la verità c'è un perché io ho voluto stare in buoni rapporti con te e saurare un buon rapporto di amicizia e diciamolo comunque anche di collaborazione perché comunque tu per quanto mi riguarda sei tra i migliori che abbiamo in Italia e per me è un orgoglio e l'onore averti qui per poter parlare con te ti ringrazio anche gli scambi che abbiamo in privato sono sempre super ricchi e super belli io sono una persona disponibile e se vedo che dall'altra parte c'è collaborazione c'è amicizia c'è voglia di fare do il 110% poi Marco ti dico per quanto mi riguarda oltre a essere bravo con i pesci che per me ovviamente è una cosa importante ma c'è un'altra cosa se una persona onesta sto cercando in questo settore di tenere vicino solo persone così perché dobbiamo riuscire a far capire che va bene i pesci ma l'importante è i rapporti tra le persone guarda io dico sempre che prima vengono le persone poi i pesci 100% perché se tu vendi i pesci belli ma sei un delinquente sei comunque un delinquente nella vita punto quindi viene sempre il valore umano prima sempre con i rapporti con le persone di educazione rispetto gentilezza poi potremo anche discutere di cose su cui non siamo d'accordo va benissimo perché potremmo anche magari non essere d'accordo su alcune cose ma da persone educate civile se ne discute e ci si stringe la mano punto basta senza come purtroppo sai gli insulti le cose che lascia stare no ti ringrazio per le cose che hai detto perché mi fanno veramente piacere ma lei le sapevi già che le pensavo di te comunque sì sì però però fa piacere insomma fa piacere va bene dai ti ringrazio ancora di cuore grazie a te Marco ringraziamo tutti gli amici sono stati fantastici poi li ringrazierò uno a uno e dai quando vuoi ne facciamo un'altra volentieri volentieri grazie grazie a tutti ciao buona serata a tutti grazie mille ciao 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 Andrea grazie mille ciao ciao